Salve a tutti e ben tornati in questo nuovo tutorial ragazzi in questo nuovo video vi spiego come risolvere così l'errore riguardo che tu non puoi installare così l'applicazione oppure che non puoi avviarla quindi devi contattare l'amministratore oppure il produttore del software quindi in questo caso per non farti uscire questa notifica è possibile risolvere il problema sulla sicurezza tipo modifica le impostazioni di controllo dell'account utente ovviamente se non dovessero funzionare questi due metodi che ti spiegherò in questo tutorial fammelo sapere sotto al video cercherò di fare altri tutorial con nuovi metodi quindi andiamo su modifica le impostazioni di controllo dell'account utente puoi anche scriverlo qua sopra quindi modifica le impostazioni di controllo ed eccole qua notifica solo quando un'app tenta ad eseguire modifiche nel computer se tu adesso imposti questa l'utente tenta di installare il software quindi non notificare mai all'utente quando quindi devi mettere questa qua così facendo potrai bypassare quel controllo io ovviamente tengo questa perché ci tengo all'applicazione che installa ma ovviamente a te è solamente un piccolo problema quindi se per esempio scarichi e installi sempre queste applicazioni e ti esce sempre questa notifica imposta l'ultimo ok metti l'ultimo poi una volta fatto premi ok e riavvia il tuo sistema operativo come secondo metodo andiamo direttamente su criteri di sicurezza locali vai su criteri locali opzioni di sicurezza scendi fino a giù fino a trovare controllo account utente modalità approvazione amministratore per l'account amministratore predefinito io non tengo né attivato né disattivato quindi quando vado a scaricare e installare un'applicazione non mi dice niente perché poi l'amministratore del computer sono io sono io che controllo il mio computer quindi sono io che comando qua sopra quindi qua tu metti disattivato e fai applica e fai ok una volta fatto riavvia il computer come ho detto se non dovesse funzionare con questi due metodi puoi sempre scrivere sotto al video cercherò di realizzare altre guide con altri metodi metodi quindi grazie a tutti per questa visione iscriviti lascia like e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao ciao